Ciao, incontro sulla poesia che si intitola Il Vischio di Giovanni Pascoli. C'è una piccola premessa da fare in relazione alle sue raccolte poetiche, cioè dato per scontato il nucleo tematico di fondo di cui abbiamo già parlato in altre video-lezioni, cioè il nido, il nido familiare, la morte del padre e in generale la morte dei parenti che hanno sicuramente lasciato una grandissima impronta sulla vita e sulla crescita di quest'uomo, oltre poi alla poetica del franciullino, che è estremamente importante alla base della sua visione del mondo e della poesia, ecco, dato per scontato questo nucleo tematico di fondo, si dipartono in qualche modo, in maniera ideale, capisci da me, capisci da solo, che si dipartono due tendenze poetiche a livello formale, perché, ancora una volta, ripeto, il nucleo tematico rimane a livello di contenuto, rimane lo stesso. Cioè c'è da una parte una tendenza narrativa, quindi troviamo i poemetti che sono pubblicati appunto in queste date che trovi a cavallo fra il 1800 e il 1900, dall'altra troviamo invece una tendenza che è più lirico-simbolica, e appunto abbiamo la produzione di Mirice e di Cante di Castellacchio. Sono poesie, attenzione, sono poesie che sono raccolte poetiche e vengono pubblicate praticamente, come vedi, negli stessi anni, il che ci fa capire che non c'è stata un'evoluzione nella produzione poetica di Pasquale, in cui all'inizio prediligeva magari appunto le poesie tipicamente simboliche, per poi passare a quelle più narrative, in cui c'è un racconto, ci sono dei personaggi che parlano fra di loro. No. Cioè, contemporaneamente, e qua ovviamente lascio la parola a studiosi ben più autorevoli di me, figurarsi, e il poeta si è dedicato negli stessi anni alla composizione di poesie che hanno forma differente, sostanzialmente differente, ripeto, alla base di un nucleo tematico di fondo, che invece è comune, che è lo stesso. Allora, ti rimando alle altre video-elezioni in cui abbiamo esaminato soprattutto poesie tratte da Mirice, faccio riferimento ovviamente al 10 agosto, a Digitale Palla, alla Suolo e ad altre, per poter esaminare così oggi invece un'altra poesia che si intitola Il Vischio. Allora, noi abbiamo in mente Il Vischio, spero, credo, nell'immaginario collettivo, appunto, quella pianta che si regala a Natale, un passato sotto la quale porta fortuna una pianta verde, in quel momento dell'anno verde, che presenta delle piccole bacche perlace. C'è un'esperienza comune, da piccoli almeno, mi ricordo benissimo, di che si prendeva questo vischio, una volta finito il periodo Natalizio, una volta che si vanno a smontare gli addobbi Natalizzi, ed essendo un prodotto naturale, quindi destinato poi appunto ad essere buttato, perché ovviamente si seccava, allora noi da piccoli prendevamo queste pallettine, le schiacciavamo, e rimaneva in mano un liquido colloso, non proprio congradevole, però è divertente schiacciare queste pallette. Te lo dico non per fare autobiografismo inutile, ma perché ci sarà utile per quello che vedremo dopo nell'analisi della stessa poesia. Allora, noi abbiamo un... Che cos'è il vischio? Come vedi da questa immagine, che tratta... che ritrae un albero, un albero d'inverno, quindi senza foglie, senza niente, è però con dei ciuffi verdi. Il vischio è una pianta parassita, cioè che si pianta, si inserisce nella corteccia di una pianta normale, di un albero sano, per succhiarne la linfa e avere una sua vita autonoma. Se l'albero è particolarmente grande e forte, come in questo caso, rimane cercoscritto, altrimenti può invece diventare molto più grande e anche indipendenza, che non sono ovviamente un esperto, quindi parlo così per quel poco che ho letto preparando questa video-lezione, ecco, se attecchisce alla base della pianta, se attecchisce, come in questo caso, sui rami più secondari, non succede a un granché, se al contrario attecchisce nella parte più bassa, invece può creare dei danni molto seri alla pianta stessa, che quindi cambia veramente quasi natura. Tutte questioni che ci torneranno utili per capire la poesia. E noi capiamo anche grazie, forse e soprattutto, ai ricordi della sorella di Giovanni Pascoli, Maria, perché appunto ci lascia scritto in quest'opera, che ovviamente non nacque con il desiderio di essere pubblicata specificatamente, ma insomma, poi alla fine ebbe una pubblicazione che per noi risulta estremamente interessante per capire la genesi di alcune poesie. Leggo, leggo quello che ci dice Maria Pascoli in relazione a questa poesia. Ricordo che, dopo vari giorni di pioggia che ci aveva tenuti in casa, andammo insieme, una mattina di sole, a fare un giro nella chiusa e vedemmo fra i molti alberi in fiore o prossimi a fiorire, o già fioriti, avendo i petali a terra, un pero che non aveva né fiori, né boccioli, né petali caduti, ma sui rami di grandi ciuffi di vischio. Non qualcosa di simile a quello che abbiamo visto nella immagine della slide precedente. Il povero albero evidentemente languiva sotto il cargo di quella vegetazione parassitaria. Giovannino, il fratello Giovanni, ci fece su molte considerazioni e molte allusioni al suo presente triste stato e concepì il poemetto che gli uscì fresco fresco dalla penna. Potremmo finire qui la videolezione, perché infine sul libro è spiegato molto bene, su qualsiasi libro il testo è anche abbastanza semplice, ecco, in questo senso, per cui c'è una profonda relazione che la sorella stessa ci dice, e aveva già intuito, allusioni al suo presente triste stato. Per cui entriamo così nel dettaglio e poi ti vogliamo dare un assaggio di lettura così tanto per avere un'idea. Il poema è diventemente diviso in due parti, il centro è il verso centrale della terza sezione, è diviso in tutto in sei sezioni, per cui a metà della terza sezione siamo veramente nel cuore della poesia. Nella prima parte appunto c'è questa passeggiata a cui alludeva Mario nel brano che abbiamo letto, quindi questa fioritura precoce degli alberi, poi la caduta dei petali, perché evidentemente c'è stato un momento di pioggia, ma questo non ha escluso che all'interno del pomario di questo giardino piantato ad alberi do frutto si potesse già cogliere in quell'inizio di primavera dalle piccole gemme che dai rami si intravedevano. E va bene, c'è anche lì un discorso legato a questi petali che devono cadere per poter lasciare spazio ai frutti, è vero, va bene, però questo mi sembra in parte secondare. Una seconda parte invece è concentrata su questo albero ignoto, un albero strano, il pero, un albero da frutto che però ha delle caratteristiche un po' strane, no? Non è ovviamente, non ha delle foglie uniformi, non ha un colore uniforme, ecco, c'è qualcosa di strano, ecco, effettivamente, di particolare. Allora, non si rivolge più alla sorella come era nella prima parte, ma si rivolge invece direttamente all'albero mostruoso. Anche il tono, anche il tono muta indipendenza dal contenuto, ovviamente perché all'inizio era un colloquio molto intimo, molto confidenziale con la sorella, parla del loro futuro, del loro stato attuale, di quanto hanno sofferto, anche come sempre torna tutto il tema dei morti, l'abbiamo detto, che è il nucleo di fondo che c'è anche dietro ai poemetti. Va bene, è molto, è una descrizione molto anche pacata, molto sapienziale quasi, direi. C'è invece una seconda parte in cui il discorso diventa un po' più forte, vibrante, cioè una anafora insistita fra terza e quarta stanza parte, sezione, che è veramente questo albero ignoto, albero, albero, insistero, parlando, quasi appunto risentito nei confronti della natura maligna, per dirla con leopardi, di quest'albero a cui è stato tolto un po' tutto, ecco, infatti, sintassi prevalentemente di frasi secche, brevi, ecco, insiste appunto sulla particolarità mostruose di questo albero nuovo che non esiste in natura, cioè è un pero su cui si è innestato il parassita del vischio, quindi ha rami con due forme diverse, foglie con forme differenti, mancano i fiori, ovviamente mancano i frutti, adesso vedremo almeno di che frutti si parla, e quindi c'è una discrezione, appunto abbiamo detto questa tendenza narrativa di questa raccolta, una tendenza narrativa che si sviluppa nel raccontare come questa pianta del vischio si è innestata nella corteccia del pero come è cresciuta come ha succhiato la linfa vitale che nel pero dava la vita e al contrario no, vedremo che cosa dà nel vischio appunto c'è dietro questo sfondo vampiresco diciamo così del vischio e torno a un discorso per me importante cioè ci siamo detti che queste poesie possono essere lette a livello denotativo come poesie molto semplici molto naturali al contrario evidentemente bisogna leggerle per cogliere nella loro essenza bisogna leggerle a livello invece connotativo non sta facendo un manuale di botanica è evidente non si sta lamentando perché nel pomario è arrivato il vischio e ha tolto al pero i suoi frutti è un discorso molto molto più profondo no? perché lo collega adesso lo vedremo nel dettaglio con la sua esistenza la sventura la sofferenza che lui la sorella e il nido familiare hanno sofferto da piccoli ci ricordiamo che il padre è stato ucciso quando il piccolo Giovanni aveva 12 anni e l'anno dopo ha perso la madre la sorella e alcuni anni dopo ha perso altri due fratelli insomma un ragazzo veramente provato dalla vita e questo di nuovo tutto presente in questa poesia perché evidentemente lui era l'albero che poteva dare frutto lui pascoli poteva essere un buon pero no? ecco si fa quasi ridere ma insomma poteva essere un buon albero da frutto con appunto un rigoglio di fiori e soprattutto di frutti da poter dare dei frutti buoni succosi che davano un nutrimento a chi li prendeva e invece l'esperienza della morte l'esperienza traumatica della morte del padre ha impedito ha arrestato questo processo evolutivo che è appunto affettivo che è esistenziale per cui si trova questo pero quest'albero da frutto che non dà più frutti e un albero da frutto che non dà più frutti che fa? che serve? ecco rimane profonda anche in questo anche in questo poeta non ha una famiglia sua non ha figli si si craggiola in questo nido ricreato con la sorella mario tradito lo vedremo in digitale porcura dall'altra sorella Ida è un panorama esistenziale abbastanza ristretto non proprio desolante ma insomma certamente non felice unica prospettiva appunto è quella di una morte che arriverà senza aver lasciato alcuna traccia di sé allora volevo leggerti appunto la quinta e sesta sezione di questa poesia perché mi servono forse le più più indicative non che le altre siano brutte ma che queste forse sono quelle in cui il discorso si chiude il discorso di cui abbiamo già detto cioè la sorte infelice della pianta è simbolo dell'esistenza del poeta la sventura ha bloccato la fioritura della vita all'interno del giovane pascoli una vita normale che per lui è preclusa qual vento di odio ti portò appunto ben detto che assume un tono piuttosto risentito piuttosto aspro nei confronti del in questo caso qua è anche difficile capire se sta parlando al 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 vischio se sta parlando al pero perché ormai sono un'unica pianta il problema è questo qual vento di odio ti portò allora abbiamo detto come sempre c'è la umanizzazione la antropomorfizzazione del vegetale tutto questo non c'è nessun vento di odio c'è il vento c'è il vento c'è il seme del vischio c'è la corteccia del pero e il seme del vischio che si insinua dentro la corteccia del pero ma non c'è un odio non c'è una cattiveria ecco quale forza cieca o nemica ti inseri quel molle piccolo seme nella dura scorsa bello questo gioco antitetico fra il molle quasi insignificante senza forze seme che si attecchisce all'interno di una dura corteccia sembrerebbe strano sembrerebbe impossibile invece avviene tu non sapevi o non credevi pero si rivolge al pero questa volta sapere e credere non sono frasi non sono verbi da piante evidentemente egli il vischio volle volontà abbiamo detto inesistente ti solcò tutto con le sue verdi vene fimo si fece delle tue midolle molto bella questa frase cioè ridusse per sé a concime ciò che tu avrei di più intimo la cosa più bella la cosa più interna che avevi la cosa più l'energia vitale la linfa vitale che tu avevi però è diventata concime per il vischio e tu languivi e la bellezza e il bene tu uscì e di mente ti dimenticavi altro verbo che non è ovviamente atteguibile alla pianta ti usciva ti usciva di mente la bellezza dimenticavi la bellezza il bene e non sentivi più pulsare fuori dalla tua corteccia le gemme in mezzo al tuo muschio di primavera dopo l'umidità della pioggia invernale ecco le gemme ecco lì si aprono tu non senti più questo stimolo e crebbe il vischio e vinse e tutti i tuoi colori del pero tutte le tue suavità quelle dolcezze il succo dei tuoi pomi quindi quel succo dei tuoi frutti e il profumo dei tuoi fiori sono adesso una perla pallida di muco quello che dicevo prima appunto questa piccola bacca perlacea che il vischio produce due anime in te sono albero e qui mi sembra che parta in maniera molto molto importante il tema del doppio no? si collega lo vedremo nella slide successiva alla ovviamente all'opera importante di stevens non vedremo e senti più la loro pugna quando mai ti affisi nel denozioso mormorio dei venti tu però ti rendi conto ancora che c'è un ospite un indesiderato ospite dentro di te che che combattono queste due nature oppure non senti più niente quella che aveva lacrime e sorrisi quella del pero l'anima buona l'anima normale che stava crescendo con lacrime e sorrisi che tirideva con l'albero dei boccioli che ti piangera dai palmi dei recisi e che d'amore abbrevidiva i voli di api villose già se stessa ignora il pero quasi ha perso coscienza di sé stiamo ancora una volta che invito ovviamente ma non ci vuole moltissimo a vedere questa poesia non come un trattato botanico ma è impossibile no? ecco questa vita che c'era nel pero adesso non c'è più l'albero da frutta è scomparso non ha neanche più coscienza di sé cioè il poeta non si ricorda neanche più quale sarebbe potuto essere una vita normale se non ci fosse stato il vischio cioè se non ci fossero stati tutti i familiari e sulle api villose che sono andate interessanti mi sembra fare tutto forse c'è uno studio approfondito sulla figura dell'ape nella poesia di Pasqua che rappresenta sempre appunto il momento riproduttivo l'aspetto sessuale anche dell'amore che qua in qualche modo appunto è precluso all'alpero non ha più fiori quindi le api non vanno più a brevidiva ecco evidentemente non vanno più le api a a a a a prendere il polline da questi fiori del pero perché lui non ha più fiori tu vivi l'altra tu però vivi l'altra pianta e sempre più ti involi da te no questo verbo bellissimo ti allontani volando da te stessa fuggendo immobilmente un'efficace mi sembra ossimoro concettuale no come si fa a fuggire se stai fermo ed ora l'ombra straniera è già di te più forte è più te ecco il bis che ha preso il sovrappento della scala del sovrappento ha già scritto e vinse ecco il bis che ha vinto l'ombra straniera è più te che te stesso sei tu anche se gemmasti allora anche se un tempo hai gemmato cioè ti sei ricoperta tu pianta da frutto ti sei ricoperta di gemme e poi di fiori e poi di frutti anche se questo è il tuo passato ora invece sei tu che distilli il glutine di morte le due sezioni finiscono più o meno allo stesso modo che ci dicono che appunto la pianta che un tempo produceva dei frutti che ovviamente erano strumento di vita ecco che ora ormai divenua assunta questa natura maligna matrigna per dirla con leopardi adesso non distilla più non crea più frutti ma crea al contrario questa materia collosa del vischio che serviva forse non più neanche ai tempi di pascole ma in altri momenti serviva nella storia del passato serviva per dare la morte agli uccelli qua non c'è bisogno di ricordare il canto di Pier delle Vigne di Dante o il trattato Dearte Venandi Cumavibus di Federico II ma insomma nell'epoca medievale il vischio da cui il nostro termine mi sono invischiato in una storia strana eccetera eccetera quindi serviva appunto per cacciare gli uccelli cioè essere strumento di morte quindi tu albero che davi la vita adesso sei un albero di morte sei tu che distilli il glutine di morte non c'è futuro per il poeta non c'è un futuro fertile ecco in questo senso chiudiamo questo mostro è una sorta di vampiro non ce lo siamo inventati noi con Twilight la figura del vampiro è una figura che è esistita da tempo nella letteratura e in particolare nella letteratura decadente proprio questo vischio che si insinua dentro la corteccia e va succhiando via la linfa vitale del pero e quindi si può pensare il motivo del doppio ci riporta immediatamente all'opera Dr. Jekyll Mr. Hyde di Stevenson perché evidentemente è proprio questa duplice natura che ovviamente Stevenson lo vede nell'opera nella sua opera lo vede legata ad un uomo Pasquale lo vede legata ad un albero ma abbiamo già detto dietro quest'albero c'è lui stesso e fa parte del grande capitolo il link lo trovi qui sotto del grande capitolo della vegetazione malata del decadentismo ne troverai tantissime di queste piante malate anche in Pasquale stesso ne troveremo altri quindi è questa pianta su cui Pasquale proietta le due anime che sente in sé aveva un'anima protesa al bene alla bellezza ad una vita prolifica anche e al contrario adesso intravede soltanto l'anima malata tormentata quella più probabilmente decadente ovviamente c'è un discorso più generale che abbiamo forse già fatto in qualche altra video lezione cioè che Pasquale sempre può essere letta con doppio registro di lettura quindi c'è sembra il poeta ingenuo candido pulito delle cose semplici delle realtà elementari ma il più delle volte dietro questa realtà elementare si nasconde invece una lettura che è molto più tormentata inquieta ma il più delle volte appunto malata e questa è una caratteristica che si coglie bene in questa poesia del vischio che a me pare è una delle più significative di questa di questo di questo poeta così importante del nostro decadentismo alla prossima